E' il caso di lucidare il cuore rosso-verde, il Posillipo deve rispondere più di un colpo per riprendere il proprio cammino. Sì, diciamo che dopo Bojasco pensavamo di aver capito un po' i nostri errori, invece sabato purtroppo siamo ricaduto in quello che ogni tanto ci capita, ovvero dei blackout. E questa volta purtroppo ci è capitato in attacco, quindi sempre una solita percentuale di uomini in più, bassa, mancano sempre 1-2 gol a partita e oggi forse parliamo di un altro campionato. Purtroppo lo sport è questo, bisogna lavorare e bisogna far sì che da questi errori nascerà qualcosa di positivo. Sabato ha un impegno più che decisivo alla comunale di Torino contro la formazione di Aversa. Sì, a questo punto è una diretta rivale per il play-out, quindi è importante fare il risultato e soprattutto approcciare bene la gara e dare il massimo in questa partita. Cercheremo in questa settimana di lavorare bene, di prepararla al meglio per ottenere il massimo.